Mi chiamo Alberto Lolli, sono rettore dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia, un collegio istituito nel 1561 per giovani talenti che non avevano possibilità economica. Abbiamo aperto dunque Orti, un parco che connette tra sé il tema naturalistico, il tema della bellezza artistica e il tema più etico dell'inclusione sociale. Abbiamo anche deciso di promuovere un concorso finalizzato alla costruzione di alcuni moduli che siano estrusione o riempimento di alcuni spazi all'interno del parco. E allora questo è un luogo in cui cambiare passo per chiedere a se stessi di guardare le cose e il mondo sotto uno sguardo diverso, uno sguardo più riflessivo, uno sguardo più lento, uno sguardo più profondo.